Una mano agli universitari fuorisede che studiano in Puglia per trovare un buon alloggio a un costo accessibile. Dal lunedì prossimo sarà ufficialmente attivo www.cercoalloggio.com, vetrina digitale che metterà insieme domanda e offerta di case di qualità nelle città-sede di dipartimenti universitari, che integra così l'offerta di alloggi già messi a disposizione dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia. I vecchi bigliettini attaccati nelle baccheche sono superati, e anche la ricerca di una stanza nel periodo dei corsi e degli esami diventa 2.0. L'accordo è stato siglato tra la cooperativa Apulia Student Service, che ha elaborato il progetto vincendo nel 2012 il bando Principi Attivi, e il Politecnico di Bari, che per primo tra le strutture universitarie pugliesi ha aderito all'iniziativa. A sostenere il progetto è proprio la Disu, con un finanziamento di 25.000 euro finalizzato ad ampliare il servizio a tutte le città, sede di corsi universitari e a convolgere tutti gli Atenei. Al momento gli alloggi disponibili sono circa 1.600, ben al di sotto delle esigenze degli studenti, che si rivolgono quindi ai privati. Attraverso il portale l'offerta sarà ampliata, ma soprattutto gli immobili saranno selezionati. Puntiamo a raggiungere qualche centinaia di annunci sulla città di Bari, nei prossimi due anni almeno pensiamo di ottenere un buon database. I proprietari degli appartamenti potranno soffrire di agevolazioni, questo permetterà di contrastare il fenomeno del mercato nero. Cerchiamo di venire incontro in termini di facilità del matchmaking tra domande e offerte di alloggi e anche forse di emersione di un certo tipo di malcostume.